Questo trionfo è il campionato di D1 e affacciarsi al campionato di Serie C2 fa aprire nuovi orizzonti per la Magna Grecia e per l'Istavolo Taranto. Sicuramente l'obiettivo che ci eravamo posti l'anno scorso era quello di fare un buon campionato per disputare un campionato quest'anno di livello, ma certamente speravamo, ma non immaginavamo di vincere in maniera, non dico semplice, ma quasi. Non è ancora finita, andiamo avanti, abbiamo una C2 l'anno prossimo da disputare e sicuramente sarà ancora più difficile, ma sicuramente ci metteremo tutto il nostro impegno per vincerlo o quantomeno per essere degni rappresentanti del territorio ionico. È stata una stagione fantastica, una stagione che ci ha fatto rincontrare con tanti amici, per me personalmente una vera e propria rivincita. Ci tenevamo molto, sia io che con i miei compagni di squadra, a fare bene in questo campionato e riportare la Serie C2 a Taranto con il Magna Grecia che mancava da un po' di anni. Sono contento perché è un gruppo ormai consolidato e giochiamo tutte le partite sempre con lo stesso spirito e la stessa tenacia. Abbiamo ritrovato ciò che avevamo lasciato e ce lo siamo ripresi. Ce lo siamo ripresi con tanta grinta, con tanta felicità e speriamo di andare sempre avanti così come lo stiamo facendo tutt'ora.